Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto Iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Sara Affifella pronta per le nozze con Francesco Fedato. Tutti i dettagli del matrimonio. Sara Affifella, l'ex tronista di Uomini e Donne, è pronta a dire sì al suo compagno Francesco Fedato. Il matrimonio, previsto per il 23 giugno, vedrà il piccolo Tommaso, figlio della coppia, portare le fedi nuziali. Sara, conosciuta per le sue vicende amorose passate, sembra aver trovato finalmente la serenità. Una storia di rinascita. Molti ricorderanno Sara Affifella per lo scandalo durante il suo trono a Uomini e Donne, quando mantenne segreta la sua relazione con Nicola Panico mentre veniva corteggiata da Luigi Mastroianni. La relazione con Luigi si interruppe bruscamente, e solo dopo la verità venne a galla. Sara chiese scusa pubblicamente e da allora ha intrapreso un percorso di crescita personale. Il grande giorno. Oggi, Sara è una madre felice del piccolo Tommaso, nato tre anni fa dalla relazione con Francesco Fedato. Il loro amore è ora pronto per essere celebrato con il matrimonio il 23 giugno. Con un tenero video su Instagram, Tommaso ha annunciato che sarà lui a portare le fedi in chiesa, emozionando i fan della coppia. Dettagli delle nozze. La cerimonia sarà un evento intimo con la partecipazione di amici e parenti. Grande attesa per l'abito da sposa di Sara, un elegante vestito a sirena in pizzo, con strascico e corpetto a forma di cuore, disegnato da un rinomato atelier napoletano. Sara ha condiviso la sua emozione sui social, scrivendo, due anime ma un singolo pensiero, due cuori che battono come uno. Sara e Francesco non vedono l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della loro vita insieme, circondati dall'affetto di famiglia e amici. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie.